Musica Avete presente Winners di Leo? Quel ragazzo che pochi giorni fa è andato a fare il provino per il team Mad nel canale di Crazy Mad Ma per l'appunto ha perso e quindi adesso mi odia Perché ragazzi l'ho battuto e per colpa mia non è potuto entrare nel team Steve è davanti adesso! Vabbè il team Mad sempre al primo posto Ma a parte questo oggi Leo mi ha scritto e mi ha detto di venire su Stambul il più velocemente possibile Bella Leo benvenuto siamo su Stambul finalmente Steve 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 me la pagherei Io ti odio ti odio non ti sopporto veramente Mi hai fatto perdere il provino per il mio idolo Cioè bro io non è che faccio vincere persone a casa Cioè te lo devi guadagnare sempre il team Mad voglio dire Bro ascolta calmati che già sembri pazzo quindi non vorrei dire Bello lo so che sembro pazzo ma veramente sono arrabbiatissimo Io volevo entrare nel team di Crazy Per colpa tua solo per colpa tua Questa me la pagherai ricordatelo Va bene bro non c'è bisogno di arrabbiarsi così tanto però voglio dire anch'io eh Calmati bruta Che bello sommifinale ovviamente te sei morto perché sei scarso Leo Non sono scarso è solo ai presenti qui vanno potentissimi Che ti fanno andare sotto il mappo poi sopra poi sotto poi ti fanno scivolare i cantieri Ah quindi hai avuto un bug potentissimo cioè nella serie proprio una bomba sotto l'auto Esatto esatto vedi ora ci iniziamo a capire quindi visto che siamo un po' anche diventando amici insomma Oddio oddio adesso amici etri mi insulti e poi comunque vuoi diventare amici Eh beh calma questo questo sì questo potrebbe diventare potrebbe essere magari in un futuro lontanissimo però No ho perso no 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 Eh vedi eh vedi sei pure scarso io ti consideravo un amico Sei pure scarso Calmati Leo calmati 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 Non c'è bisogno di arrabbiarsi così No 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 non mi calmo ti hai perso sei scarsissimo e poi mi vieni a dire a me che sono scarso Sì bro guarda che io mi sono qualificato cioè io almeno Ok winners prima di continuare vi voglio annunciare che visto che è iniziata la scuola nell'ultimo periodo E' diminuito il tempo per fare moltissime cose nel mio caso il tempo per fare i video Infatti come avete visto non ho più pubblicato video costantemente a parte che non ci sono mai riuscito Ma mettendo a parte questa cavolata qua che va bene gà chi se ne frega Voi sapete che per fare un video ci vuole molto tempo molto lavoro e molto editing Molta voglia di fare che io in questo momento non ho ma soprattutto molto tempo Infatti ragazzi per agevolarmi le cose per agevolare anche a voi Visto che non mi piace come dire lasciarvi senza contenuti E non mi piace neanche come dire fare uno short su una volta ogni morte di papa Per toppare quelli che sono i buchi e i toppi del canale Ho deciso di pubblicare ogni giovedì alle 14 Quindi raga mi raccomando segnatevi questa data E ovviamente non scordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la capparellina Inoltre raga voglio cominciare a portare anche altri giochi come Fortnite, Stumble, Guys E anche Warzone, Minecraft e altri giochi che potrebbero piacere sia a voi che a me Soprattutto come creator Però raga chiaramente accetto anche magari delle vostre proposte Se per esempio vi piace un gioco che vorreste vedere sul canale Non esiterò a portarvelo Quindi mi raccomando ragazzi un commentino, un like e un'iscrizione Se anche voi volete vedere maggiori contenuti sul canale E soprattutto con una qualità maggiore Un'altra cosa velocissima prima di lasciarvi completamente Ve lo giuro per stavolta perché veramente vi sarete scassati i coglioni Vi volevo solamente sollecitare a cliccare quel tastino rosso là sotto per iscrivervi al canale E ovviamente non scordatevi di guardare tutti i miei video Visto che molti di voi non lo fanno neanche Raga non ha senso iscriversi a un canale senza poi non guardare i video Mi raccomando iscrivetevi e guardate tutti i video Perché chiaramente a quel punto non vi iscrivete neanche Se vi iscrivete per non guardarli Cioè voglio dire Detto ciò winners ritorniamo al video Ascolta Leo guarda facciamo così Facciamo così Visto che comunque dai Non sei scarsissimo Cioè va bene Sì sei pazzo Va bene tutto Però comunque giocare a stumble ci sai giocare Se vuoi ti do una possibilità per diventare un pro player Va bene bro? Sì 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 Quando posso fare il provino Per favore Insinimi anche tutti i trick Allora io in realtà di trick ne so meno di te Anche se questo Ecco infatti sono morto Madonna santa No 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 lo sta vincendo ragazzi Non posso lasciarlo vincere Che poi lo devo fare tra il team man E poi che lo si uccide Ok ok No va bene va bene Allora Allora Leo Ascolta Potresti non qualificare Perché ti regalo le caramelle Mi fanno schifo le caramelle Eppure quelle al cioccolato Grazie T'ho superato Però sei proprio scarso Non è giusto Non è giusto No Ti hai dato la scusa delle caramelle al cioccolato Che tra l'altro neanche esista Non è che io sono Bomincia Per dirtelo Perché i gianduiotti Quelli non sono caramelle al cioccolato E beh sono cioccolatini Non è che Non parliamo di cioccolato Te mi hai fatto perdere E quindi ora Ora mi dai l'altra possibilità Perché mi hai sconcentrato Io Io ho laggato Mi hai sconcentrato Guarda veramente questo Ok ok Va bene Va bene Va bene Ragazzi ragazzi Allora mi sono mutato E ora guardate cosa faccio Cosa faccio Steve Sai qual è il vero cioccolatino Il vanino alla nutella Ok ok Comunque Va bene Non credo che tu sia Sia normale Leo Comunque un attimo che mi muto Eh Sbaglio Ha detto o non ha detto Che tipo Regà un attimo mi muto Non è che tipo Mi sta trollando No regà Devo investigare Ah comunque Leo guarda Mi sto per qualificare Primo E comunque ho sentito Tipo un certo tipo Ragazzi Ma non vorrei che Cioè So che sei uno youtuber Anche te Ma non stai mica reccando No 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 Steve ma che Non sto reccando Se mai sei te che stai reccando Cioè Ma sei sicuro Perché prima ho sentito Ragazzi un attimo Che mi muto Ma non è che Tipo mi stai veramente Prendendo in giro Ma che Ma che Guarda Leo Ascolta Io non te lo faccio fare Il provino per il team Eh Io non te lo faccio fare Perché Perché Sto Sto laggando È perché sei nabo Eh non peraltro Steve Steve Io sono arrabbiato Questa partita La vincola Ah e comunque lo sai Che se te questa partita Se tu dovessi vincere Questa partita Sono costretto a farti Entrare nel team Quindi mi raccomando Impegnati Però non usare pugni Perché se Ecco ecco lo stavo Se te usi il pugno Sei fuori da Tutto Quindi non usare pugni Non t'azzardare Va bene Tranquillo 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 Guarda Guarda qua Cioè io ho questo piccolo problema Questo problema Là Pugnite E se hai anche sminchiato Non li sai neanche tirare Voglio dire Vergogna Tira i pugni a caso Cioè è un problema Che ti fa tirare i pugni a caso Nonostante tu non voglia Quella si chiama Sindrome di Tourette È ovvio Perché per colpa Di questa Sindrome Eh però fai proprio schifo Cioè Come ti permetti Ho venuto Guarda Fai cagare Cioè voglio dire Non è che non posso farti entrare Mi dispiace Bevo la mia acqua da gaming E ti dico Armaricamente Che non puoi entrare nel team Ti sei Permesso Adesso si Ti farò vedere Creerò un team Più meglio Di quello che è ora E ti farò vedere Sbatterò sia te che crazy E dove ci sbatti Scusa Sbatterò Sbatterò